In questa casa stiamo diventando veramente tanti Secondo te c'è una mod che ha implementato le orge? Ciao a tutti e chiunque come siete e benvenuti in questo nuovo episodio della Dawncraft Flavia saluta Ciao Buongiorno Ti sei teletrasportato in qualche modo? Esatto Allora vedete già che questo libro è strano Ma ne parleremo più avanti Andiamo invece a fare in realtà il primo obiettivo che abbiamo prefissato per oggi Ovvero craftare le crashing mode Nella nostra clipboard Altra novità Qui vedete craftare le crashing wheels e il codex antico Il libro è il codex antico Dopo vedrete che cosa fa Ma intanto andiamo a craftare le crashing wheels Per le crashing wheels dobbiamo andare nel luogo che abbiamo tenuto nascosto l'ultimo video È un po' grande Sì è un po' grandino però va bene Tutta questa stanza sarà adibita alla createcraft mod che è gigantesca E quindi serviva una stanza altrettanto grande A cosa serve tutta questa struttura enorme? Allora intanto questo qui è un motore Poi qui cade... No ve lo faccio direttamente vedere all'opera Qui cade l'acqua Le pale girano Qui quindi tutto il movimento Anche le palle Che non lo sembra Ma è una crafting table Crafting table che doveva essere alimentata da questi ingranaggi Per questo li abbiamo messi Adesso ci metteremo i materiali necessari per le crashing wheels Succederà la magia e poi le avremo Crashing wheels che poi attaccheremo qua E ci mettiamo poi dentro la roba E vediamo che succede No tu parla tu parla Io sono qui che mi sto divertendo Allora Mettiamo un blocco di pietra al centro Mettiamo il legno Alle estremità E tutto il resto deve essere pieno di andesite alloy Ora non mi ricordo se il crafting parte da solo Si parte da solo Guardate qua la magia La magia La magia Però sta più o meno funzionando Guardalo Oh Wow Wow Ok ne fa due direttamente God Let's go Anche perché non avevamo i materiali per il resto Guarda come rotolo Ora mettiamo questa ruota qua Questa ruota qua E facciamoci qualche cosa Adesso non mi ricordo che cosa ci possiamo fare Quindi mi vediamo un secondo Dato che l'estate sta iniziando Avevamo pensato di far tornare le live Come vedete siamo pieni di armature per cavalli in diamante Armature però che non servono a una bellissima minza Con queste crashing wheels possiamo fare un sacco di cose Ma una tra queste cose è quello di crashare proprio queste armature Le mettiamo quindi in questa cassa Attiviamo le crashing wheels con questo pulsante Dai attiva attiva Vediamo se funziona Ok Damans Io pensavo cadessero nella cesta però Ok però abbiamo già otto diamanti Non sapevo li sparasse fuori Non è molto carina questa cosa Però va bene Funziona Cos'è questo codex? Come avete visto poco fa ho lanciato una palla di fuoco a Flavio Questo codex è un insieme di incantesimi bellissimi Che permettono di fare varie cose Tipo questo scudo Queste esplosioni Vari incantesimi di cura Questi poi li vedrete direttamente appena li useremo Solo che Flavia ancora non ce l'ha perché vi volevamo fare vedere il crafting Come si crafta questo Questo codex antico Prima dobbiamo craftare questo enchanted spellbook Si fa in questo modo Metti questo Metti questo Metti questo Metti questo Metti questo 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 No poi questo va qua Questo va qua E porca mi sarei sbagliato il crafting Ok ora si fa Ok perfetto Enchanted spellbook Questo coso in realtà è uguale al codice Al codex antico Però a meni incantesimi Quindi per potenziare lo dobbiamo mettere Questo così Così Ok era così Questa bottiglia di fulmini È stata presa da un creeper caricato Infatti abbiamo dovuto fare un tridente Ma che prendi in frigo Ma che cacchio prendi in frigo Oh guarda Aiuto calmo calmo Cioè io sto lavorando per te E tu mangi No non stavo mangiando Stavo guardando il ghiaccio Ma che guardi il ghiaccio Dobbiamo lavorare Tieni Questo è il codex antico Let's go Ora come vedi Adesso non ha nemmeno un incantesimo Allora vediamo quale prendere Perché sinceramente Non ne ho proprio idea Ok fla Usciamo fuori E proviamo questi tuoi nuovi incantesimi Perché non li conosco nemmeno io E fai vedere anche la nuova katana Che hai trovato Ah sì Che bella lama Olè E questo è lo stesso mio di poco fa Esatto Quello che mi hai lanciato poco fa E Quasi Wow Ma è bellissimo Ma adesso Possiamo finalmente Ceccare questa parte Fare il copper golem Andiamo subito al copper golem Ho bisogno del copper golem E poi Faremo Uccideremo finalmente Nine tails Primo blocco Secondo blocco Wow Però ho un'idea Ho trovato Mentre esploravo i ghiacci Meduse arcobaleno Ma Che hanno droppato Questa gelatina arcobaleno Ora questa cosa Possiamo mangiarla Ma prima voglio farti vedere Gli effetti sul copper golem 3 2 1 No vabbè È diventato gay No 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 RGB RGB Fa fare più FPS Allora adesso Possiamo fare il culo Finalmente a Nine tails Io mi teletrasporto Teletrasportati pure tu È pieno di pillager Saffiro No ma manco il tempo Di farmi caricare Il chunk Ah no Perché ero un mini boss No no Perché un mini boss Sto uccidendo anche a me Porca puttana Oh no No aspetta serve la bomba a fuoco Serve la bomba a fuoco Fla Spostati BAM No non serve un altro Non serve Ah ne è caduto uno Ci deve essere un altro evoker Ecco qui c'è un vindicator però È un vindicator leggendario Non ho mai visto un mob leggendario Prima d'ora E ce l'abbiamo qua Dov'è? Aiuto Ok l'abbiamo ucciso Ah Ce ne sono altri Ce ne sono altri Ok io ho trovato una zona nascosta Un sacco di diamanti Uno zaino Armatura Sono bloccato Slowness Fla ho trovato un'ascia E guarda che ascia Ma Aspetta Fermo un secondo Perché forse C'era pure nelle nostre missioni Sì Sì è una delle super Delle super armi pazzesche Però la vediamo dopo Saliamo Hai un bel culo Grazie anche tu Vai E in tutto questo Nine Tails Dov'è? Ho trovato l'evoker Dobbiamo ucciderlo Ci sono due evoker Corro Corro Ah niente È stramorto Niente Oh no no Qui però va a fuoco Là hai per caso usato il respiro del fuoco? Sì No perché è andata a fuoco l'intero pavimento No Ah ho slowness perché sto portando troppi zaini Saliamo ancora di più Perché il Nine Tails non si vede Il mio gatto ha deciso di Attenzione Sono tanti Sono tanti Ah Allora Allora No non dovevi morire Non dovevi morire E io stavo per utilizzare il soffio del drago Ok adesso se ti teletrasporti muori istantaneamente Ok Ok bravo che li hai infocati tutti Ma non è abbastanza Questa ci siamo buttati un po' troppo a capofitto Tu che dici? No ma che fa scherzi Ok ok mancano Ce ne sono pochi Ok abbiamo un pochettino di cadaveri da prendere Ah ma Flà Ho sbagliato Che cosa c'è? Nine Tails non è qua Come no? È da un'altra parte In che senso? La sua fattoria è laggiù Ho visto la struttura grande e pensavo fosse quella Ti prego perdonami Ok è qua Va bene tanto so dove abiti Ti conosco da una vita Il fucile ce l'ho To boss Nine Tails con tutte ste cose Ed è questa la sua dimora Aspetta fammi controllare Ok si è questa È sto tizio? È sto tizio Ma aspetta È questo tizio In realtà ci insegna Ah Lanciamogli una freccia Ma Perché? Potremmo ucciderlo anche così Però è tristissimo Aspetta Ora ti può perdere Metà vita Oh oh è riuscito a salire Oh Ma in realtà è comunque un'umano Ah Gli escono delle code assurde Oddio 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 Angela abbiamo Attenzione aspetta sta per esplodere mi sa Vai Io non Ah Questa è un'umano di vittoria Ah Allora L'exoticai Chi ha cercato quest'occhio non è mai più stato trovato Voci dicono che hanno trovato la grande città di Atlantide O che hanno perso la loro via cer... Trovando... Provandoci Ci sta Guardiamo sta struttura come funziona Non l'ho capita È vuota Bello Non c'è niente Era un normale cittadino che si faceva i cazzi suoi Mi sento quasi in colpa Però... Però... Ammettilo Sembra quella la struttura di... Di un boss del genere Sì no no Va bene Niente S'abbiamo ucciso Adesso dovremmo mandare ad Aschwitz il cultista Chi è questo cultista? Allora Stavo esplorando in giro Ho trovato una strana chiesa Dentro questa chiesa c'era Un uomo All'interno di una gabbia Quest'uomo era estremamente scarso Quindi ho detto Vabbè Lo ammazzo Ho scoperto solo dopo fosse un boss Quindi Ne ho trovato un'altra Tanto a quanto pare sono piuttosto comuni in realtà E quindi Adesso ci ritorniamo per ucciderla Anche perché Flavio non ha preso questo boss E quindi non mi sembra giusto Non darglielo Questa è la struttura che vi dicevo Cultista E qui sopra Sulle scale Ok guarda E questo signore di qua Dentro la gabbia Prova ad ammazzarlo Dai Così veloce Ah ma da calci Nemmeno me ne ero accorto Sì No Flà però Ancora allora non è capito niente Flà dai Da calci e mi respinge Capito? Oh finito Visto era proprio un boss inutile Ma è un boss anche di livello piuttosto alto Di secondo livello Allora quindi Abbiamo qui la maschera del cultista Qui abbiamo riorganizzato gli occhi Come potete vedere c'è un occhio in più Il netherai Che abbiamo trovato in una delle strutture del nether Purtroppo non c'era un boss Abbiamo aperto una cassa Oh guarda un occhio E quindi ovviamente l'abbiamo preso E l'abbiamo preso Purtroppo non pensavamo onestamente Di trovare un occhio così facilmente E purtroppo molti altri degli occhi sono così Quindi potrà capitare di nuovo La descrizione dice E' stato perso da un demone Nella battaglia tra la heder e il nether Vorrei dire di prendere i monster coin Che ne abbiamo già dieci Più alcuni Io ne ho più oltre Ok ma dieci ce ne servono E proviamo ad aprire una di queste casse Questa Questa cassa ci può dare una delle armi Forti Alcune già le abbiamo trovate Sono tipo queste Quest'ascia Però potrebbe Potrebbe darci anche altro Quindi comunque proviamo Apriamo Ah no posso scegliere effettivamente io Allora c'è un Eh? Cartello del Del mercato nero Piazzalo per terra Per attirare i villager del mercato nero Poi material chest Che ci da tipo pietra Legno Vario Moonless Lana fabuchi Che è quella che hai tu mi pare C'è una falce pazzesca Una sorta di pistola Ci sono armi interessanti Però il mercato nero No no il mercato nero Mercato nero Perché magari il mercato nero Ci da pure altre cose Ok ho preso il cartello del mercato nero Vediamo come si piazza Tipo qua Boh Non c'è nessuno per ora Vedremo che cosa succederà Andiamo a riscuotere la missione E ovviamente Reggirato dall'altro lato Prenda calcio in culo Dove cacchio sei? Spacchiamo il muro come al solito Salve signore A questo punto non sono nemmeno sorprese Ottimo lavoro Il Naintails era conosciuto come un ospito violento Non ho idea del perché ha deciso di ritirarsi in una zona abbandonata Ecco qui le informazioni per il prossimo Tieni occhio Attenzione non è niente Di simile a quel che ho affrontato per ora Ah mi ha già dato la mappa Oh Enchanting table Smiting table Si Let's go Intanto mi ha già dato la mappa Mappa per lo scheleton lord Il prossimo Tieni occhio è un non morto Un non morto con un sacco di trucchi E circondato dai suoi seguaci Quindi potresti avere qualche problema ad arrivare a lui Penso che abbiamo finito tutto Abbiamo finito No ma anche il labirinto di ghiaccio Il labirinto di ghiaccio Non so quanto è lungo Possiamo provare Vabbè lo troviamo Ok il posto è questo C'è praticamente questo labirinto Tipo verso di là Io non ho capito bene come funziona Visto che c'è Ma Dario Che c'è? Aiuto Oddio che cos'è? Oddio no 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 Ah Ah Sono troppi Porca putta Ciao a tutti chiunque Ciao a tutti chiunque E ciao Ciao Connexion terminate Ciao a tutti